Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le tribune elettorali legate alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Anche questa sera ci occupiamo di un comune al di sopra dei 15 mila abitanti chiamato a rinnovare il Sindaco e il Consiglio Comunale in questa tornata. In particolare sono ospiti nei nostri studi per un confronto i candidati sindaci del Comune di Spoltore, importante realtà metropolitana che credo sarà sicuramente uno dei temi al centro del confronto. Questo confronto che verrà, oltre che moderato da me, verrà soprattutto stimolato dalle domande del collega del quotidiano Il Centro Daniele Berardi, che io ringrazio e saluto. Buonasera Daniele. Dunque una collaborazione che prosegue, quella con Il Quotidiano d'Abruzzo che domani dedicherà sicuramente ampio spazio in edicola anche alle dichiarazioni e alle valutazioni che emergeranno da questo confronto. Sono ospiti nei nostri studi al momento tre dei candidati sindaci, in quanto il candidato sindaco Marco Dellatore ha avuto un indifferibile problema personale per il quale ha dovuto registrare anticipatamente l'intervista proprio con il collega Daniele Berardi e con Paolo Durante che vi proporremo al termine di questa tranche di confronto tra gli altri tre candidati. Che io ringrazio e saluto, sono stati sorteggiati in quest'ordine di risposta almeno per la prima domanda. Chiara Trulli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Nelson Anzoletti, buonasera Anzoletti. Buonasera, buonasera. E Pierpaolo Pace, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, io prima di entrare nel merito, una prima domanda la farò io, poi lascerò il collega Daniele Berardi libero insomma di porre i temi più specifici sulla città. Prima considerazione proprio con Daniele su questa campagna elettorale a Spoltore in generale. Ecco, dal punto di vista dei media che tipo di risultati ci sono in termini di temi, in termini di confronti, in termini di toni tra i quattro candidati in questo momento, ormai a una settimana dal stop alla campagna elettorale. Anzitutto, buonasera direttore, ti volevo ringraziare per l'invito, saluto ovviamente anche tutti i nostri telespettatori. Anzitutto c'è da dire che è una campagna elettorale che sta un po' facendo fatica ad accendersi per quello che stiamo notando. Ci auguriamo insomma che questo non si traduca in un'elevata percentuale di astensionismo, no? Questo poi potrà essere un fattore inevitabilmente da tenere in considerazione. C'è però da dire che è stata una campagna elettorale che sin dalle prime battute ha regalato diverse sorprese. Penso insomma al cambio nel PD che adesso presenta come candidato Chiara Trulli, che in precedenza aveva presentato Di Girolamo. Penso anche alle incertezze che hanno avuto i partiti di centrodestra, che poi però sono arrivati a sciogliere le riserve in un secondo momento. E penso anche insomma ai volti nuovi di questa campagna elettorale, mi riferisco ovviamente al candidato Anzoletti. Questo perché? Perché volevo anche insomma fare un po' i complimenti ai candidati che si stanno confrontando con quella che probabilmente non viene ancora percepita come quella che è. Cioè una campagna elettorale diversa dalle altre, una tornata elettorale diversa dalle altre, importante per i temi che sono in ballo. In primis perché finisce un'era, comunque andrà a finire, il mandato di Dilorito insomma non continuerà. Quindi avremo un volto nuovo dopo dieci anni. E poi perché c'è quello che è un po' il tema, il convitato di pietra di queste elezioni, che è il tema della nuova Pescara. E quindi comunque andrà a finire, il prossimo candidato sindaco, il prossimo sindaco porterà a compimento la fusione da quello che sembra, al di là poi, anno più, anno meno. Esatto. Cercheremo di capire anche qual è lo stato d'animo di chi si candida ad essere. Probabilmente, poi potrà anche accadere il contrario, l'ultimo sindaco di Spoltore, così come è configurata territorialmente in questo momento. Quindi è un tema che riguarda una comunità, ma che in fondo ha un valore esteso su un'area vasta, anche su tutta la regione, di grande impatto. Quindi non sarà un risultato insignificante quello che uscirà il 12 giugno e probabilmente, o eventualmente, al ballottaggio, 15 giorni dopo. Vedremo. Vedremo. Io sono molto curioso, insomma, di ascoltare i pareri dei candidati, soprattutto sui temi che ha già anticipato Daniele. La prima domanda, ovviamente, l'unica che farò io, è relativa alla coalizione, alle liste che sostengono i candidati sindaci. Iniziamo con Chiara Trulli, ovviamente, diciamo, Di Lorito ha segnato un'epoca per quanto riguarda la gestione amministrativa della città. Lei ha avuto dei ruoli anche all'interno di questa maggioranza. Ecco, che tipo di squadra è quella che si candida, diciamo, a innestarsi su questa precedente esperienza di governo? Prego. Buonasera a tutti, buonasera a direttore, buonasera a tutti coloro che assisteranno a questa interessante trasmissione. Io, come dice da poco affermato, sono stata assessore nel primo mandato di Di Lorito e poi vice sindaco, quindi nel solco, diciamo, di questa esperienza amministrativa che ho fatto accanto a lui, chiaramente noi ci candidiamo alla guida della città con una squadra, una bellissima squadra, che tra l'altro abbiamo presentato nella sua interezza proprio la scorsa settimana ed è composta da quattro liste, quattro liste formate da persone davvero aderenti alla città, davvero presenti nei gangli vitali della città in tutti i campi, dalla cultura al mondo della scuola alla sanità allo sport. Abbiamo delle liste composte da persone che sono veramente vicine ai cittadini, che sono cittadini, cittadini animati come me dalla grande passione per dare una buona amministrazione alla città, la passione per una politica che sia vicina ai cittadini, che sia di prossimità, persone che hanno grande capacità di ascolto e di insieme lavorare per dare risposte. Io voglio delle sentinelle presenti in tutte le frazioni di spoltori, ma soprattutto capaci di interpretare i bisogni dei cittadini nei più diversi ambiti della vita comunitaria della nostra città, perché in questi dieci anni ci siamo distinti per un grande livello di vicinanza alla gente. Questo per esempio è quello che mi hanno detto anche i cittadini, in modo particolare durante l'emergenza sanitaria, non ci siamo sentiti soli, l'amministrazione è stata sempre presente. Ecco, l'amministrazione che io voglio costruire è un'amministrazione che abbia questa capacità, questa forte aderenza e vicinanza alla gente. Allora, Anzoletti, Daniele Berardi l'ha presentato come una sorpresa di questa campagna elettorale. Allora, come nasce la sua candidatura e quella della sua squadra? Intanto buonasera a tutti, ringrazio il direttore per l'invito, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, la mia è stata accolta dalla comunità come una sorpresa, effettivamente io che mi occupo della mia professione medica da sempre, mi sono anche sempre rivolto con occhi interessati alla politica locale e ho accettato la richiesta di candidatura a sindaco della città di Spoltore con orgoglio, posso dire, perché per me era del tutto inaspettata. L'ho accettata perché sono convinto che Spoltore abbia bisogno di aria nuova, soprattutto in questo momento storico molto particolare. Siamo ormai alle porte della fusione nella nuova Pescara e credo che la politica spoltorese meriti un atteggiamento nuovo verso la cosa pubblica. Sono molto fortunato perché, nonostante questo momento di appiattimento nell'interesse politico generale che stiamo oggettivando, e credo che anche i colleghi siano d'accordo, siamo riusciti a comporre una squadra di 32 candidati con due liste civiche, Spoltore amica e in comune, che in parte raccolgono l'esperienza di 5 anni di opposizione in Consiglio Comunale, un'opposizione però del tutto costruttiva, mai ostruttiva nei confronti dell'azione amministrativa, e abbiamo ottenuto il consenso di 32 cittadini, amici, bravissime persone, che hanno la caratteristica di avere uno spessore umano e professionale che attraversa in maniera trasversale il mondo delle professioni. Sono cittadini che non hanno nessun interesse, crociato con l'amministrazione della cosa pubblica, ma che hanno l'unico obiettivo di dare il loro contributo alla gestione della cosa pubblica per rendere Spoltore una città migliore. Quindi per me è un orgoglio accogliere questa sfida, sfida che qualcuno mi ha definito come una sfida molto difficile, ma dico sempre che a me le cose facili non sono mai piaciute e diciamo, venendo da un'esperienza di due anni nella gestione della pandemia Covid in ospedale, questa sfida l'accolgo molto volentieri. Ecco, anche per Paolo Pace, in fondo è una sorpresa, perché insomma c'è stata una fase di gestazione della sua candidatura e poi della nascita di una coalizione del tutto particolare, che è quella che la sorregge. Ecco, ci racconti questo processo e anche appunto la genesi di questa sua sfida. Sì, grazie direttore. Diciamo, la mia candidatura è nata in parte in sofferenza, ma in parte anche con un progetto politico che è nato da almeno cinque anni, perché noi siamo stati, diciamo, in opposizione, siamo gli unici rappresentanti, io e la collega, la consigliera Antonella Paris, del centro-destra in Quotalega. E quindi in questi cinque anni abbiamo fatto un'opposizione seria, giusta, a mio parere senza indietreggiare di un millimetro, però abbiamo anche dato spiragli di collaborazione quando c'erano temi importanti, ci sono stati temi importanti. Poi c'è stato un processo appunto interno al centro-destra che ci ha visto in qualche maniera divergenti su alcuni punti e noi attraverso il discorso del regionale, della Lega, ci siamo in qualche maniera, diciamo, sentiti il dovere di continuare questo processo politico, di continuare quindi appunto la nostra attività. E quindi abbiamo creato anche noi due liste civiche di 32 persone residenti sul territorio che vivono sul territorio di Spoltore anche noi abbiamo le più disparate professionalità dal commercialista all'artigiano, al pensionato, all'operaio. Quindi noi abbiamo preso tutte quelle persone che in questo momento hanno voluto dire basta innanzitutto ad una città che non è curata o non è stata curata in una certa maniera, in un modo, in qualche maniera migliore. e noi vogliamo migliorare questa città, questa qualità della vita. Abbiamo dei grossi timori su quello che è la nuova Pescara perché la nuova Pescara, secondo noi, non porterà grossi benefici ai nostri cittadini. E' anticipato sostanzialmente quella che sarà sicuramente, ci posso scommettere, qualunque cosa, una delle domande del collega Daniele Beratti, al quale però cedo il microfono appunto per introdurre il confronto sui singoli temi. Daniele. Beh sì, era il primo tema in realtà che volevo mettere sul tavolo, che volevamo mettere sul tavolo. Perché questo? Perché di fatto, come dicevo anche in apertura, è un po' il convitato di pietra di questa campagna elettorale. E quindi ai candidati voglio chiedere questo. In primis, qual è la loro posizione su questo processo di fusione che sembra però ormai ben avviato e al tempo stesso però soprattutto quale sarà secondo loro il ruolo che Spoltore può giocare in questo agglomerato urbano maxi diciamo con Pescara e Montesilvano perché molti cittadini insomma hanno paura che possa essere un po' la periferia di questa nuova Pescara. Quindi quale idea avete di Spoltore nell'ottica della nuova Pescara? Trulli. Bene. Grande Pescara è il tema cruciale chiaramente di queste elezioni perché è un processo che si è avviato che è partito e che chiaramente ha anche delle deadline ben precise cioè delle date ben precise e chiaramente noi dovremmo gestire in maniera seria responsabile e consapevole questo processo non improvvisare nulla perché Spoltore avrà necessità di un ruolo da protagonista in questo processo di fusione quindi non si può come dire tratteggiare o glissare il tema ma la questione si pone con fermezza ed è per questo che nella proposta della mia candidatura come della mia squadra di governo della città abbiamo voluto mettere in campo competenze e professionalità specifiche per gestire il processo di fusione mi posso ecco con molta umiltà vantare di avere una grandissima esperienza amministrativa che ho maturato negli anni dei dieci anni accanto al sindaco di Lorito ma che vengono anche da un curriculum di esperienza a tutto tondo nella pubblica amministrazione che sono pronta a mettere in campo perché noi dovremmo fondere tre apparati amministrativi noi dovremmo andare incontro alla costituzione di un telaio istituzionale di alto profilo per la nuova Pescara e dovremmo farlo come dicevo non improvvisando ma con delle forti competenze e capacità di stare sui tavoli sovracomunali pertanto la sfida che ci attende non sarà soltanto quella di ben gestire spoltore ma anche di partecipare non con un ruolo di sudditanza ma di protagonismo a questa fusione io profonderò tutte le mie energie per questo scopo a tutela di spoltore perché spoltore è un territorio pregiato che va tutelato va tutelato anche per quello che riguarda i grandi sacrifici e i grandi risultati che noi abbiamo fatto ad esempio sul bilancio comunale un bilancio dai risultati oltremodo lusingieri e positivi che noi dobbiamo mettere in cassaforte appunto perché nella fusione spoltore non dovrà avere alcun detrimento ma come dicevo dovrà avere un ruolo il ruolo alto che le spetta Alzoletti beh allora io inizio col dire che Nuova Pescara è stato da sempre il fulcro di questa campagna elettorale non per niente la mia candidatura è venuta fuori con una proposta concreta che è stata lanciata a tutte le forze politiche del nostro territorio che riguardava la creazione di una grande coalizione perché fin dal primo giorno noi eravamo convinti del fatto che un solo partito politico non potesse rappresentare sui tavoli di Nuova Pescara le necessità della nostra città purtroppo prendo atto del fatto che questa richiesta non è stata mai accolta da nessun partito politico perché l'identità della grande coalizione non è stata mai compresa fino in fondo prendo d'altronde atto anche del fatto che Nuova Pescara oggi è una realtà quindi noi ci troviamo di fronte ad una legge regionale che impone l'istituzione di Nuova Pescara al primo gennaio del 2023 parliamo di qualche mese certo è che il lavoro finora fatto non è sufficiente nel senso che noi siamo convinti che Spoltore debba avere un ruolo principe all'interno del processo di fusione perché ricordo che Spoltore è sì la città con meno abitanti coinvolta nel processo di fusione ma è anche la città con superficie territoriale più ampia dei tre comuni quindi per noi è necessario difendere l'identità territoriale di Spoltore e deve essere fondamentale per tutte le forze politiche che Spoltore parli una sola lingua ai tavoli di Nuova Pescara non vorrei ritrovarci tra qualche mese a dire parafrasando una nota frase abbiamo fatto Nuova Pescara ora facciamo i nuovi pescaresi nel senso più ampio del termine ovvero noi dobbiamo lavorare su un'armonizzazione delle procedure informatiche delle amministrazioni per poter creare gettare le basi alla costituzione di una città che poi sia adeguatamente funzionale alle necessità dei suoi cittadini questo è l'obiettivo principale Spoltore ha sempre visto diciamo come periferia il suo ruolo nel Nuova Pescara e noi in questo non siamo assolutamente d'accordo grazie pace io come ho già anticipato sono stato forse uno dei pochi che sono seduti qui a prendere una posizione politica ben netta per quanto riguarda la Nuova Pescara io ho fatto parte del comitato del No nel 2014 quando c'è stato il referendum appunto da parte del Movimento 5 Stelle dopodiché nel 2018 come tutti quanti sanno con la legge regionale di Luciano D'Alfonso si è istituito questa nuova realtà noi siamo su questo molto però perplessi perché si doveva secondo me diciamo precedere con un'unione di servizi che sarebbe stato diciamo un primo passo per poter effettivamente creare quella coesione che tutti quanti adesso si aspettano ma stiamo in grosso ritardo la mia paura che ci siano dei disservizi che i cittadini poi pagheranno non c'è il discorso appunto di affrontare alcuni temi che magari potrebbero essere anche poco interessanti ma invece sono sostanziosi quelli dell'armonizzazione della contabilità dei vari enti perché ci sono enti che parliamoci chiaro non è che vivono o stanno in condizioni ottime per quanto riguarda il piano finanziario non vorrei che queste situazioni ricadessero sulle tasche dei cittadini di Spoltore poi noi per quanto riguarda i partner Montesilvano e Pescara abbiamo il massimo rispetto ma esigiamo la stessa cosa purtroppo le passate e amministrazioni non si sono fatti valere su questi tavoli si sono sempre presentati con il cappello in mano e noi questo non lo permetteremo qui non è che noi rischiamo attenzione e questo lo dico in maniera chiara ai cittadini non è che qui rischiamo di diventare la periferia di Pescara noi qui rischiamo di diventare il ghetto di Pescara che sarebbe per noi veramente un qualcosa di grave perché il nostro territorio è un territorio veramente ricco e da valorizzare con questo processo noi abbiamo una grossa paura che qualche uno voglia mettere le mani sul nostro territorio e quindi più di pensare alla nuova Pescara come progetto politico ma di pensare alla nuova Pescara come a fare bene allora Daniele Bernardi andiamo su un altro tema o se vogliamo proseguire anche su questa falsariga a te allora io partirei vorrei chiedere ai candidati un giudizio cioè un giudizio sull'epoca che si chiude cioè noi abbiamo avuto dieci anni con sindaco Luciano Di Lorito si chiude questo capitolo quindi abbiamo diciamo un elemento di continuità per alcuni aspetti come Chiara Trulli quindi a lei vorrei chiedere cosa si porta in eredità da questi dieci anni di amministrazione ne ha fatto parte con ruoli diversi ma anche cosa c'è da migliorare calcolando che magari gli ultimi due anni di amministrazione sono stati inevitabilmente condizionati dalla pandemia a pace Anzoletti chiedo però cosa c'è da migliorare rispetto a quanto fatto negli ultimi dieci anni ma anche se ci sono alcune cose da cui può valere la pena ripartire Allora in questo secondo round due domande che vedranno un ordine diverso nella risposta qui inizia Anzoletti Sì allora diciamo che l'opinione riguardo l'uscente amministrazione non può che essere un'opinione per certi aspetti assolutamente negativa nel senso che noi abbiamo davanti un'amministrazione che guida la città di Spoltore da dieci anni e di cui poco si vedono gli effetti basti pensare che se confrontiamo i programmi elettorali degli ultimi dieci anni vediamo che sono sempre presenti i soliti temi Spoltore una città di ventimila abitanti che continua a cercare soluzioni a problemi da oltre vent'anni io credo che vent'anni siano un tempo sufficiente per cercare soluzioni di qualsiasi genere di qualsiasi natura quindi diciamo che il primo aggettivo che mi viene in mente rispetto a questa amministrazione uscente è di immobilismo non ho visto una città crescere una città che sia divenuta a misura d'uomo una città che abbia promosso la crescita dei servizi con un parallelismo rispetto alla crescita urbanistica che ha visto la nostra città immobilismo che sicuramente in parte si giustificherà con la pandemia covid che abbiamo vissuto che però rappresenta soltanto gli ultimi due anni quindi io credo che ci sia molto da fare anche raccogliendo l'eredità dell'amministrazione uscente sicuramente diciamo questo può sembrare un'opinione personale però ripeto basta il confronto oggettivo dei programmi delle forze politiche uscenti per capire che effettivamente sono loro stessi a riconoscere di dover fare ancora tanto rispetto a quello che c'era stato promesso pace io mi collego a quello che ha detto poc'anzi Anzoletti purtroppo anche per me il giudizio è negativo ma è negativo perché non riguarda solo gli ultimi dieci anni ma gli ultimi trent'anni in quanto non c'è stata una visione politica ben precisa in questi trent'anni e soprattutto in questi dieci l'unica cosa che ha guidato questa amministrazione è un faro che si chiama urbanistica cioè si è pensato a Spoltore come un discorso solo per costruire case per far venire la gente ad abitare a Spoltore però poi non si è non si è avuta la visione di dare servizi di farla crescere sul tema economico e sul tema appunto della ricezione questo è stato il grosso danno che purtroppo noi stiamo rilevando adesso e non c'è stato mai nulla di nuovo mai una come possiamo dire un'opera degna di nota se non qualche sporadica situazione che nemmeno è attribuibile a questa amministrazione noi invece su questo che vogliamo puntare su un discorso diverso su una logica diversa la logica diversa oggi non è quella di far venire ad abitare le persone non è di far crescere il numero di persone ma dargli una qualità di vita degna per Spoltore perché noi abbiamo delle risorse importanti come l'ambiente avevamo la sicurezza avevamo diciamo situazioni come il nostro borgo è un borgo veramente da valorizzare e da far punto attrattivo su questo purtroppo dobbiamo registrare invece il degrado che si è creato in questi anni allora questa amministrazione che cosa ha fatto? Ha fatto forse solo la normale l'ordinaria amministrazione cioè quella di mettere dei pali della luce di mettere dell'asfalto di mettere degli allacci fognare questa per me dovrebbe essere l'ordinaria amministrazione qualcosa che è di diritto ai cittadini perché nel momento in cui io ho la visione di far venire di far accrescere la mia comunità questi sono servizi che devono essere dati di diritto e non dopo dieci anni dopo vent'anni e dopo trent'anni questa purtroppo è la situazione che noi abbiamo vissuto e che stiamo vivendo dobbiamo avere un progetto politico appunto per fare protagonista innanzitutto Spoltore per farla diventare grande per poter appunto competere con quei partner che sono Montesilvano e Pescara Chiara Trolli Bene questi anni questi dieci anni di amministrazione di Lorito hanno portato alla città in verità delle grosse conquiste noi abbiamo intanto operato un'azione di efficientamento e di ristrutturazione di tutti quasi tutti i plessi comunali scolastici la scuola media di Spoltore così come anche la scuola di Santa Teresa quella di Via Salina le nuove scuole sono state rese ristrutturate sismicamente diciamo adeguate dotate di tutta l'impiantistica necessaria questo soltanto per quanto riguarda la ristrutturazione delle scuole e gli edifici gli edifici per dare sicurezza ai nostri studenti tra l'altro abbiamo inaugurato proprio la settimana scorsa anche la nuova palestra della scuola dell'infanzia di Santa Teresa che sarà a disposizione del mondo associativo sportivo locale così come anche nella scuola di Via Basilea ci sono già i fondi a Villa Raspa per il nuovo impianto sportivo al coperto annesso alla scuola dell'infanzia appunto locale le scuole sono state uno dei temi centrali della nostra amministrazione ma così come in tutti i campi come la gestione ad esempio della raccolta differenziata in cui Spoltore vanta un lavoro enorme con delle conquiste sulla igiene urbana che appunto ci portano a un porta a porta spinto e a oltre il 70% di raccolta differenziata abbiamo su ad esempio l'attrattività e l'attrazione turistica della città lavorato con progetti innovativi che ci vengono riconosciuti da tutti penso al progetto Spoltour ma penso anche al primo infopoint comunale a Piazza Dal Benzio che abbiamo inaugurato e a tante attività di animazione territoriale che abbiamo messo in campo in questi anni chiaramente il lockdown ha inciso notevolmente anche sulla capacità di organizzare così per Spoltore ma per tutti i comuni ma noi abbiamo lavorato veramente per dare a Spoltore delle prospettive di crescita incredibili penso al bilancio comunale noi lasciamo un bilancio comunale sano noi abbiamo la pressione fiscale tributaria quindi più bassa d'Abruzzo abbiamo attratto imprese anche con una fiscalità di vantaggio sia nelle nuove zone industriali artigianali ma sia anche nei centri storici bene la devo interrompere perché siamo in chiusura di questa prima parte di confronto noi ci fermiamo soltanto per qualche istante torneremo in studio con un altro giro di domande ai tre candidati sindaci di Spoltore Linea Andrea Di Fabio in regia rieccoci di nuovo in studio per una nuova transce di domande a confronto i candidati sindaci di Spoltore una domanda del collega Daniele Berardi del quotidiano il centro Daniele allora sì io aprirei il capitolo un po' storiche incompiute partendo da quello che è penso il simbolo di questo discorso cioè il mammut questo edificio che se non ricordo male avrebbe nato per essere un mercato coperto poi di fatto è stato abbandonato è ancora lì molti cittadini si chiedono se si è effettivamente arrivato il momento del suo abbattimento sappiamo che il comune ha ottenuto un finanziamento europeo per buttarlo giù e per costruirci se non vado male un asilo comunale e quindi i candidati voglio chiedere anzitutto se è effettivamente arrivato il momento in cui non vedremo più quell'edificio lì e se effettivamente ci vedremo un asilo una scuola oppure se nei loro piani insomma c'è di costruirci qualcos'altro anche per questa domanda Anzoletti poi pace e trulli allora sì diciamo che il mammut è il simbolo tra le varie incompiute è il simbolo del del degrado della città di Spoltore ormai è una struttura vetusta che non riesce a trovare una sua collocazione all'interno della nostra città è vero che è stato pubblicamente annunciato un finanziamento per la costruzione di un plesso scolastico sicuramente la nostra città necessita di nuove strutture che siano adeguatamente ospitali alla comunità dei bambini però diciamo che dal nostro punto di vista il mammut si trova in una zona della nostra città che dovrebbe permettere di trascinare l'identità storico culturale artistica del centro storico quindi sicuramente se questi fondi arriveranno la costruzione di un plesso scolastico è augurabile ma dovremmo vedere perché non è la prima volta che il mammut viene destinato con fondi intercettati all'ultimo momento certo la scuola deve essere costruita perché Spoltore sicuramente gioverebbe di un nuovo plesso scolastico però ripeto destinare quella zona magari ad un teatro che possa raccogliere l'eredità di ultraventennale dello Spoltore Ensemble per noi sarebbe prioritario però diciamo che in questa fase il vero problema è capire se questi fondi ci sono arriveranno e capire le tempistiche con cui verrà realizzata questa nuova opera strutturale nel nostro territorio grazie pace anche questo è diciamo una ferita scoperta il mammut per quanto riguarda Spoltore la comunità spoltorese purtroppo è diventata un'identità se vogliamo di di Spoltore un'identità brutta un'identità che fa soffrire chi è veramente di Spoltore è vero che ci sono state diciamo delle evoluzioni i passati le passate diciamo programmi elettorali vedevano il mammut come ultima cosa appunto dall'amministrazione di Lorito come un'area di esposizione per quanto riguardava le macchine d'epoca ora si ricambia nuovamente c'è un progetto che fortunatamente perché qui ecco si va a tentoni non è che c'è una progettazione qui il comune fortunatamente ha avuto queste sovvenzioni dovremmo in qualche maniera gestirle nel migliore dei modi anche perché Spoltore con 20.000 abitanti oggi non ha un asilo nido quindi noi siamo appunto guardiamo con attenzione queste evoluzioni certamente guardiamo anche il cosa si sta facendo adesso e quindi io ripeto è un discorso di visione che si vuole dare sul territorio se circa un mese fa in quella stessa area viene inaugurato un'area sgambettamento cani io ho qualche dubbio che chi oggi amministra abbia una visione di quello che potrebbe essere il futuro cioè faremo una scuola con annessa area sgambettamento cani mi sembra un qualcosa abbastanza di improvvisato un qualcosa giusto per le elezioni e per dare forse un segnale alla comunità ma i cittadini mi dispiace per qualche d'uno non è che hanno l'anello al naso e che non guardano queste cose qui ci vuole credibilità ci vuole la visione appunto che dicevo e ci vuole attenzione perché se effettivamente questi contributi verranno ci vuole un progetto serio intelligente che ridia appunto in maniera definitiva la parola fine a quell'ecomostro che si chiama oggi mammut Chiara Trulli era il cicalino di prima ebbene invece noi diciamo la verità ai cittadini noi diciamo che il mammut la demolizione del mammut è già realtà perché siamo stati in grado di intercettare i fondi dei piani di rigenerazione su bandi specifici per l'istruzione missione istruzione quindi è chiaro che i fondi sono dedicati sono destinati a questo scopo e pertanto la natura dell'opera dovrà avere quella finalità appena la perdita dei finanziamenti che sono già in cassa c'è già il progetto sarebbe stato già demolito il mammut lo sarà brevissimo il lockdown ha portato a dilatare i tempi ma non la nostra capacità di risolvere quel problema pertanto ai cittadini noi diciamo come stanno veramente le cose il progetto è già realtà i fondi sono in bilancio in estate cominceranno i lavori di demolizione e saranno ascrivibili a un lavoro intenso che questa amministrazione ha fatto sapendo prendere finanziamenti il progetto di cui parlava il consigliere pace si riferisce a un altro bando sul quale noi ci siamo candidati proprio per cercare di intercettare tutte le tipologie di fondi possibili per risolvere quel problema adesso finalmente i fondi sono arrivati sono in cassa sono 4 milioni e mezzo per la demolizione del mammut 500 mila euro saranno per le piste ciclabili che collegheranno il mammut nuovo polo scolastico della città agli altri poli scolastici cittadini in un grande piano di mobilità interna ciclabile del centro storico quindi 5 milioni di euro che sono già nel bilancio comunale opere concrete progetto già in corso che prevederà appunto la sua fase esecutiva in estate e sarà appunto frutto di un lavoro che questa amministrazione ha sapientemente portato a casa allora Daniele un altro tema vorrei aprire il tema impianti sportivi perché si parla insomma da anni della possibilità di realizzarne uno nella zona dell'Arca anche insomma su quello però non sono stati fatti passi avanti quindi ai candidati vorrei chiedere quali sono i loro programmi per potenziare aumentare l'offerta sportiva sul territorio di Spoltore e se effettivamente c'è ancora la volontà nelle loro possibilità ovviamente di vederne uno proprio lì nella zona dell'Arca dove se ne parla ormai da tanto tempo per questa la prossima domanda cambia ancora l'ordine di risposta il primo qui è pace purtroppo dovrò ancora dire che parliamo di un problema di 20 anni fa che continua a rimanere ancora diciamo sopra le spalle degli spoltoresi e non continua ad avere diciamo quelle risposte che si attendono appunto da questo tempo io veramente abbiamo fatto di tutto in consiglio comunale per poter spronare questa amministrazione a far rispettare una convenzione perché noi dobbiamo dire una cosa ai cittadini che quando noi siamo obbligati nei confronti di terzi a dover pagare siamo sempre pronti e disponibili invece ciò non accade quando dei terzi sono obbligati nei nostri confronti e noi non capiamo perché ci sono stati dei problemi sono stati risolti ma questa convenzione doveva aver fine circa due anni fa è stata prorogata e non si sanno i motivi e perché a questa società gli sia stato dato questo vantaggio è stata prorogata una seconda volta adesso e non si sa ancora il perché di questa nuova proroga in altre parole non si conosce il perché il comune di Spoltore che potrebbe avere delle risorse importanti potrebbe lì far nascere come ha detto giustamente il dottor Berardi un centro sportivo che potrebbe in qualche maniera raccogliere un'area che va appunto a uno dei quartieri più popolosi di Pescara che è Pescara Colli non solo che si trova in una posizione di per quanto riguarda l'accessibilità il discorso dell'asse attrezzato potrebbe creare economie e quindi posti di lavoro non si riesce in qualche maniera a dare anche qui una parola fine e a questo punto io mi chiedo perché ci sono dei vantaggi che debbono essere dati a delle determinate ditte qual è il motivo io non lo capisco io vi dico che però nel momento in cui sarò sindaco questa questione in tempi brevissimi arriverà a conclusione perché non è più possibile andare avanti con le prese in giro mi piace molto questa domanda perché mi dà anche la possibilità di dire che nelle mie liste noi abbiamo anche delle personalità del mondo dello sport che sono veramente impegnate abbiamo anche un campione del mondo in una mia lista esponenti del mondo associativo dello sport di spoltore con cui abbiamo fatto un patto ampliare l'offerta di impiantistica sportiva nella nostra città come ho già detto precedentemente a Santa Teresa abbiamo già inaugurato la nuova palestra a Villa Raspa sorgerà la nuova palestra nuovi impianti sportivi saranno nell'area dell'arca perché lì c'è un progetto c'è il progetto della convenzione di cui parlava il consigliere pace per la monetizzazione di quei diciamo delle debbenze dovute per un parco attrezzato urbano dedicato ad impianti sportivi minori per la città e questo sarà un fulcro un fulcro della mia nuova amministrazione se i cittadini ci daranno la loro fiducia perché la impiantistica sportiva significa servizi di qualità per i giovani e oggi è questo quello che ci chiedono i giovani ed è a questo che noi daremo tutte le risposte necessarie Anzoletti Sì allora io inizio con una premessa io la mia prima esperienza politica a questi livelli mi mi chiedo se non è paradossale parlare ancora di un problema che ha da poco compiuto 22 anni mi chiedo se quanto tempo un'amministrazione deve il tempo per cui ha bisogno un'amministrazione comunale per risolvere un problema di questo genere noi parliamo di un territorio che riveste una posizione strategica nella nostra città come diceva Pace si trova proprio al ridosso di Pescaracolli nel tratto più trafficato di comunicazione con Pescara con la città di Pescara un terreno sul quale vige una convenzione con una società e che deve essere assolutamente rispettata noi abbiamo proposto all'amministrazione uscente di riacquisire la proprietà di questi terreni e di chiedere alla società che deve realizzare queste strutture di ristorare la cittadinanza con i fondi necessari a costruirle per poi occuparsene personalmente come amministrazione della realizzazione io credo che la nostra città che ha subito una tra virgolette invasione e che meriti un ristoro per questa costruzione debba ricevere assolutamente in tempi brevissimi la restituzione di queste opere pubbliche che sono destinate a migliorare la vita e il benessere dei nostri cittadini bene ultima domanda diciamo di merito proposta dal collega del quotidiano il centro Daniele Berardi poi sarò io a chiedervi l'ultimo appello agli elettori prego allora questo tema ci è arrivato direttamente dalla voce dei cittadini nel senso che noi in questi mesi siamo andati sul territorio a chiedere un po' quali fossero i problemi della città le cose da migliorare alcuni cittadini molti ci hanno insomma lamentato la mancanza di aree verdi sul territorio di spoltore o meglio avrebbero voluto più aree verdi più parchi subito disponibili e aperti e quindi io ai candidati chiedo se questa è una priorità del loro programma elettorale e come intendono metterla a terra sempre pace sì questo tema a noi è molto caro io penso ecco innanzitutto che spoltore ma questo l'ho anche ribadito nella mia attività di consigliere comunale nella passata consigliatura di investire sul territorio proprio di spoltore paese che oggi non ha un vero e proprio parco mentre magari qualcosa troviamo a Villa Raspa e Santa Teresa per poter appunto dare una risposta a tutte quelle famiglie a quelle persone anziane che non hanno più punti di incontro ma non hanno appunto ecco delle aree degli ambienti per poter essere diciamo in qualche maniera sereni su questo noi ci puntiamo e io sono convinto che ci riusciremo a trovare un'area appunto destinata a questa attività dall'altra parte possiamo vedere invece il discorso dell'ambiente su Santa Teresa perché noi abbiamo su quell'area là un fiume che ci offre un ambiente particolarmente bello e sconosciuto a parecchi stessi spoltoresi dove lì potremmo veramente creare diciamo non solo una rivalorizzazione del fiume ma anche appunto aree verdi per poter dare delle risposte naturalmente anche il potenziamento a Santa Teresa e su questo se mi concedete una divagazione su Santa Teresa che purtroppo ha dovuto pagare anche in termini ambientali alcune situazioni vi parlo della discarica che è stata trovata lì e non solo c'è anche lì il discorso della centrale idroelettrica che avrebbe dovuto ristornarci anche qui ci ritroviamo allo stesso punto di prima avrebbe dovuto ristornarci la ditta che ha realizzato quell'opera delle royalties e dei fondi appunto per poter diciamo creare degli ambienti verdi e degli ambienti appunto come parchi questo non è stato mai fatto anche qui io mi impegno nei confronti dei cittadini a far rispettare la convenzione e quindi a far rispettare la legge cosa che oggi non è stata fatta rispettare Trolli bene anche questo tema ci sta molto a cuore e non a caso proprio l'anno scorso abbiamo inaugurato il parco il nuovo parco di via Lubiana un nuovo parco un'area verde a disposizione dei cittadini di Villa Raspa una novità un parco attrezzato appunto a disposizione dei cittadini anche in quella frazione i lavori di riqualificazione di Montinope sono già in essere 150 mila euro su questo bilancio che appunto restituiranno anche al centro urbano un'area verde riqualificata per percorso vita e quindi per attività all'area aperta molto continueremo a fare comunque in questa direzione perché come il parco attrezzato che dicevo anche verde nel polmone di Villa Raspa nella zona dell'Arca ma il parco fluviale è al tempo stesso un'altra grande esigenza e priorità che noi daremo insieme al sistema delle piste ciclabili all'attuazione del biciplan della città di Spoltore che vedrà quella zona insieme alla direttrice di Fosso del Seminario coinvolta da un sistema di piste ciclabili per dare mobilità sostenibile alla nostra città io è un impegno quello che prendo con i cittadini perché credo profondamente proprio nell'importanza di creare una animazione territoriale che si costruisca proprio su questi assetti su questi che sono legati alla valorizzazione della natura dell'ambiente e del benessere dei cittadini perché noi dovremo lavorare tantissimo per elevare il livello di qualità della vita dei nostri cittadini a Spoltore e lo potremo fare appunto attraverso questo attraverso ad esempio un lavoro che stiamo facendo con il settore delle politiche sociali ad esempio per riportare delle aree a disposizione anche della terza età per i centri sociali comunali che verranno anche quelli potenziati questo per dire che ci sta molto a cuore anche il tema dei centri di aggregazione sia per la terza età che per i giovani al chiuso e all'aperto Anzoletti sì allora inizio col dire che il tema dell'ambiente della tutela dell'ambiente è prioritario in questa campagna elettorale penso perché Spoltore si deve riconoscere che ha molti problemi in questo settore e va è un tema che va molto a braccetto con il tema della salute pubblica su cui io ho una sensibilità particolare è vero che Spoltore manca di aree verdi attrezzate e non iniziamo col dire che Spoltore Capoluogo non ha al momento dei parchi fruibili che siano sul verde e noi abbiamo già individuato e proposto due aree che possono essere destinate in tal senso che sono quelle che si trovano all'incrocio tra via Contratti e via Giotto e via Di Marzio e via Giotto e a questo proposito racconto l'aneddoto della inaugurazione della mia sede elettorale in cui all'uscita una bambina mi ferma e mi chiede espressamente la realizzazione di un progetto di questa natura in secondo luogo l'ambiente deve essere tutelato perché ci sono delle zone di Spoltore città che gravano sul rischio ambientale e sulla diciamo sulla problematica del traffico veicolare sto parlando di Santa Teresa e Villa Raspa che purtroppo hanno sempre a che fare con una congestione del traffico che aumenta l'inquinamento atmosferico e quindi l'impatto ambientale e sulla salute pubblica per questo motivo noi oltre alla realizzazione dell'area verde che è prevista nella zona dell'arca abbiamo proposto la realizzazione di un polmone verde a Santa Teresa di Spoltore nella zona antistante il parco attualmente già in essere che debba essere una struttura attrezzata e che al suo interno raccolga delle specie arbustive che sono in grado di riassorbire l'inquinamento ambientale e quindi l'impatto sulla salute pubblica ci faremo anche promotori di uno studio epidemiologico che vuole studiare i problemi di salute dei nostri cittadini per capire quali sono le aree maggiormente a rischio bene allora abbiamo un po' scandagliato i temi più rilevanti di questo confronto elettorale grazie agli spunti che ci ha dato il collega Daniele Berardi adesso però è l'ultimo momento quello tradizionalmente nelle tribune elettorali dell'appello agli elettori siete soli voi con la telecamera con il dialogo diretto con i vostri elettori quelli che ritenete già certi quelli che invece sono ancora potenziali intanto l'appello è quello di andare comunque a votare anche se alle amministrative la presenza di molti candidati nelle liste insomma determinano un attenzionismo generalmente inferiore ma io a questo vostro dialogo con gli elettori aggiungo anche un ulteriore spunto che è quello relativo alle vostre aspettative per questi ultimi dieci giorni di campagna elettorale cioè vi chiedo anche se a Spoltore c'è aria di ballottaggio qual è il vostro pronostico qual è la vostra insomma sensazione su questo su questo risultato che si sta profilando Chiara Trulli ebbene non mi piace fare pronostici perché penso che si surclassi in questo modo il diritto di espressione popolare che sarà sancito il 12 giugno e che restituirà la volontà dei cittadini in merito a chi sarà il prossimo sindaco della città io ai cittadini dico questo in questi anni abbiamo costruito un rapporto di vicinanza di prossimità un amore reciproco che c'è stato tra me anche chiaramente la squadra e i cittadini e mi ha molto commosso ad esempio ricevere molte volte anche durante il lockdown le parole tenere di coloro che mi dicevano non ci siamo sentiti soli sei sempre stata vicina a noi ecco quella amministrazione che io voglio costruire è quella che con i cittadini farà un patto di vicinanza io voglio costruire se i cittadini chiaramente mi daranno il loro consenso un'amministrazione che sappia cogliere tutte le istanze della gente e trasformarle in azioni concrete di risposta io voglio fare questo lo voglio fare proprio perché penso che la politica oggi debba dare delle prospettive ai cittadini che siano appunto di una capacità assoluta di vicinanza e lo potremo fare abbiamo tante sfide per il futuro tante sfide che si poggiano sul fatto che avremo opportunità di gestire finanziamenti importanti sul PNRR quindi piani di rigenerazione e noi per esempio abbiamo costituito già una task force per gestire i fondi che arriveranno fondi che arriveranno non solo dall'Europa ma arriveranno anche da altri enti e noi dovremo essere in grado con queste risorse di continuare a dare ai cittadini ciò di cui hanno bisogno una città più pulita più sicura più bella una città capace di dare servizi ancora più efficienti e più vicini ai cittadini questo lo potremo fare insieme in un lavoro che mi porterà ad essere sempre un'ascoltatrice attenta dei bisogni della gente chiaramente non da sola ma con una bella squadra fatta di persone che sappiano essere accanto a me in questa capacità appunto di essere vicini alla gente Nelson Anzonetti sì allora io l'appello che rivolgo ai miei concittadini è questo la città di Sportore sta vivendo un periodo storico assolutamente unico nel suo genere e credo che sia necessario raccogliere l'esigenza di una nuova classe di dirigenti una nuova classe politica che possa rispondere effettivamente e concretamente alle esigenze dei nostri cittadini che lo faccia con dinamismo onestà e competenza e che i progetti che si porteranno ai tavoli saranno poi concretamente realizzati guardiamoci indietro e vediamo come è cambiata la nostra città negli ultimi decenni e chiediamoci se è ancora il momento di andare avanti su questa strada io direi che il solco che è stato tracciato deve essere deviato perché la nostra città merita di crescere e di migliorare una cosa importante la devo dire la differenza tra noi e gli altri è che noi non abbiamo partiti politici che ci sponsorizzano noi rispondiamo del nostro operato qualora arriveremo ad amministrare questa città esclusivamente ai nostri concittadini quello che vogliamo realizzare lo vogliamo realizzare esclusivamente per il benessere della nostra città e lo realizzeremo facendone poi raccogliendone poi i frutti con chi ci ha dato la fiducia per farlo questo è l'unico appello che voglio lanciare io so che i cittadini di Sportore nutrono questa speranza e spero che il 12 giugno all'interno delle cabine elettorali questa speranza diventi realtà per Paolo Pace sì anch'io rivolgo all'elettrice degli elettori un appello al voto ma loro che mi conoscono perché io sono persona che vive sul territorio e su tutto il territorio sono convinti sono convinto che daranno il loro appoggio la loro il loro voto alle nostre liste che è grande spoltore e spoltore protagonista sono convinto perché in questo processo che noi abbiamo messo in atto è un processo di cambiamento è un processo che vede purtroppo dei problemi che oggi appaiono gravi soprattutto per quanto riguarda il degrado noi ci appelleremo appunto a fare in modo che questo che spoltore non sia più considerato un paese ma una città quindi con logiche diverse io penso che le aspettative degli elettori sono queste non è che vogliono la luna vogliono solo che però il rispetto per quanto riguarda uno standard è una qualità di vita che deve essere superiore che oggi purtroppo a spoltore manca purtroppo a spoltore manca una visione manca chi invece dovrebbe ascoltare queste esigenze e risolvere i problemi oggi noi nuovamente stiamo ascoltando altre promesse naturalmente io dirò anche una cosa ben precisa io sono qui e ambisco a fare il sindaco per cinque anni io non so seppure gli altri competitor che sono qui in sala hanno la stessa idea e quindi io dico ai cittadini di Spoltore che nella sfida della nuova Pescara voglio il loro appoggio perché dobbiamo andare avanti per portare avanti il nostro interesse sempre in condizione coordinati con Montesilvano e Pescara ma non possiamo arrivare lì con il cappello in mano dobbiamo dar vita ad un'idea di Spoltore che possa far crescere Spoltore dobbiamo dar vita con una squadra forte che possa far crescere Spoltore dobbiamo dar vita a tutte quelle idee che nel nostro programma ci sono sono valide e sono attuabili sicuramente allora io ringrazio i tre candidati anche per i toni pur nel confronto molto civili e anche credo costruttivi nel farsi percepire dagli elettori che hanno mostrato in studio vi ricordo che candidato sindaco di Spoltore e anche Marco della Torre che ascolterete tra pochissimo insieme a Daniele Berardi che io saluto in questa fase della registrazione ma che ritroverete tra poco con Paolo Durante appunto nel proporre le domande che sono state rivolte all'altro candidato sindaco che lo ricordo per chi si mettesse in visione in ascolto ha avuto un problema personale quindi ha dovuto registrare in anticipo il suo intervento ricordo anche insieme a Daniele per i lettori del centro che finora magari si sono messi in visione soltanto più tardi e quindi finora non ci hanno ascoltato completamente che domani in edicola troveranno sul quotidiano d'Abruzzo un ampio resoconto di questa tribuna elettorale grazie a tutti voi dopo questa pausa in studio ancora con Paolo Durante Daniele Berardi e l'intervista all'altro candidato sindaco di Spoltore a tra poco grazie a tutti elezioni amministrative del 12 giugno comune di Spoltore Marco Della Torre uno dei quattro candidati a sindaco ve lo presento subito buonasera e benvenuto buonasera buonasera a tutti buonasera ai telespettatori che ci ascolto in studio c'è anche il collega del quotidiano il centro Daniele Berardi buonasera buonasera Paolo buonasera a tutti i telespettatori buonasera anche al candidato sindaco della Torre della Torre prima di entrare un po' più nello specifico con le domande anche conoscendo dobbiamo conoscere il suo programma soprattutto gli elettori lo devono conoscere di Spoltore le faccio una domanda generica intanto quali sono e quante sono le liste che la sostengono e poi se può scattarci una breve fotografia di se stesso prego io ho in appoggio quattro liste e ne approfitto per ringraziare tutti quei cittadini che si sono messi con me per combattere questa battaglia e ci hanno messo la faccia quattro liste che sono una di Fratelli d'Italia un'altra di Forza Italia e Spoltore Libera l'Udc e poi una mia personale civica che si chiama Spoltore Libera una breve fotografia di se stesso professione sono un medico veterinario da tanto tempo non diciamo quando per la questione di vabbè lasciamo stare l'età vabbè no ho 58 anni a parte gli scherzi sono anche presidente di conflorezione Abruzzo e di Anvi-Abruzzo forse anche per questa diciamo attività che ho fatto negli ultimi vent'anni a un certo punto mi sono convinto che era giusto scendere in campo in prima persona perché da consigliere comunale d'opposizione nonostante belle iniziative eravamo riusciti a ottenere ben poco Daniele innanzitutto io volevo partire con quello che è un po' il convitato di pietra di questa tornata di amministrativa per quanto riguarda il comune di Spoltore cioè il tema della nuova Pescara sulle tempistiche c'è ancora incertezza però possiamo dire che di fatto il prossimo sindaco sarà quello che accompagnerà il comune di Spoltore verso la fusione con Pescara e Montesilvano e io a Marco della Torre mi sento di partire con questa domanda di chiedergli che idea ha di Spoltore in questo super agglomerato urbano molti cittadini si chiedono ma Spoltore diventerà la periferia di Pescara e Montesilvano oppure avrà un ruolo strategico in quello che sembra ormai un percorso già tracciato allora vi dico subito io sono partito come prima presentazione non con le classiche diciamo così manfrine ma con una conferenza stampa dove ho parlato proprio della grande Pescara e di ieri la pubblicazione della sentenza del Tar che di fatto ha bocciato a tutto tondo l'iniziativa legale del Comune di Spoltore sono stati spesso se non sempre assenti i tavoli trattative c'è stato un referendum che ha dato ragione sì non nego che all'epoca io ero no ero contrario ero per il no poi però bisogna rispettare la volontà dei cittadini ne è seguito una legge regionale che prevede per il 2013 massimo il 2024 scusi per il 2023 massimo il 2024 ma anche se slittasse di qualche anno non è un problema l'importante è fare un progetto condiviso che preveda una fusione e non un'annessione anche questo è stato un argomento che mi ha convinto a candidarmi perché ho visto negli ultimi 5 anni un'assenza di coloro che rappresentavano soprattutto la maggioranza spoltore prova ne sia che hanno fatto un'iniziativa legale che però gli è andata male ecco però nel contesto metropolitano il ruolo di spoltore il ruolo di spoltore secondo me è strategico per quale motivo è una bella caulina degradante quindi le caratteristiche orografiche del terreno di spoltore non fanno altro che mettere al centro spoltore anche se è la realtà da un punto di vista della popolazione più piccola perché? perché ha territori bellissimi a disposizione qual è la mia visione? la mia visione è quella di partire subito con quelle cose che si sarebbero già dovute fare e non sono state fatte tutto il mondo va verso il green noi non abbiamo nessuna iniziativa che aiuti i nostri cittadini per esempio a mettere pannelli fotovoltaici non abbiamo nonostante i nostri territori bellissimi non abbiamo ancora una pista ciclabile e io presentai una mozione otto anni fa se non vado in cui si prevedeva una bella pista ciclabile che partiva dal lungo fiume e poi si addentrava perché? perché attira turismo magari non turismo italiano magari turismo estero però tu avvicini alle realtà e anche evidentemente eventualmente anche a prodotti a chilometro zero avvicini direttamente il turista che magari si ferma in azienda con una bicicletta a comprare che ne so un formaggio o un vino Daniele io vorrei anche soffermarmi su un altro tema molto importante perché di fatto a spoltore queste elezioni saranno un po' un punto di svolta a prescindere perché possiamo dire si chiude un'era dopo due mandati dopo dieci anni il sindaco Luciano Di Lorito passerà la mano a prescindere da chi ci sarà dopo di lui e quindi io a Marco Dellatorre voglio chiedere siccome anche lui insomma ha avuto esperienze politiche un volto noto della politica l'abbiamo detto un giudizio su questi dieci anni si chiude un capitolo se ne apre un altro a prescindere da chi sarà il prossimo sindaco però a lui voglio chiedere un giudizio e se c'è qualcosa ovviamente che lui rifarebbe meglio ma anche se c'è qualcosa che magari conserverebbe di quanto è stato fatto negli ultimi dieci anni è stata un'aggiunta che definire lenta è un complimento gli argomenti già qualcuno ne ho evidenziati ce ne stanno altri ancora più importanti come possono essere il mammut e il campo sportivo mancante quando io ero consigliere comunale di opposizione ho cercato in tutti i modi di evitare lo sperpero di 450 mila euro per il campo sportivo perché lo ritenevo in una posizione difficile priva di viabilità priva della possibilità di ampliare le tribune priva della possibilità di ampliare lo spogliatoio bene questo campo sportivo era previsto da un accordo oramai ventennale sempre fatto dal centro-sinistra perché quello bisogna sottolinearlo e l'allora arca adesso adegati SRL avrebbe dovuto già provvedere alla costruzione di un campo sportivo lì aveva un senso perché territorio pianeggiante grande popolazione presente vicinanza di arterie viarie quindi non si capisce perché si stia ancora a buttare soldi per esempio su si siano buttati soldi su quel vecchio campo sportivo che deve servire solo come campo di allenamento o per le scuole faccio questo esempio per non parlare di quello che io chiamo brutto vedere che in realtà sarebbe un bel vedere ma che è stato incompiuto oppure possiamo parlare del mammut quello ancora più antico come problema è stato riciclato come teatro ma non aveva l'acustica è stato riciclato come palazzo e trasport ma non aveva lo spazio o gli spazi per le tribune quindi sono tutti e tanti problemi risolti per non parlare della svendita del palazzo comunale Toppi che era la vecchia sede del comune che altri comuni sfruttano palazzi antichi che sfruttano per iniziative potevamo sfruttarlo per un museo potevamo sfruttarlo come si usa spesso adesso per i matrimoni e invece l'abbiamo svenduto quindi questa è stata diciamo per me con la fotografia della sua squadra lei farà farebbe il campo sportivo giusto? io ho parlato di cittadinello sport piste ciclabili nel mammut lei cosa ci vede dentro? noi già in un programma nel programma vecchia avevamo previsto un polo scolastico fatto come si deve perché attualmente abbiamo la scuola elementare l'asilo spoltore capoluogo che stanno in una zona di difficile viabilità non ci sono parcheggi ogni volta che i bambini riescono c'è pericolo inquinamento per i gas di scarico ed è un problema irrisolvibile perché la viabilità è quella quindi un polo scolastico lei ci vede un'altra cosa poi do spazio ancora chiaramente attenzione polo scolastico completo di palesti strutture sportive che possono essere utilizzate dalla popolazione anche quando le scuole per professione fa il veterinario un canile punto interrogativo allora nella mozione famosa il tutto partiva la mozione prevedeva un parco canile che fosse lambito dalla pista ciclabile perché il cittadino che passa e ripassa o perché va a correre in realtà era una pista ciclabile donale o perché passa con la bicicletta un po' perché viene attirato un po' perché viene magari impietosito però col parco canile che avevo pensato io in realtà si prevedeva un recupero dell'animale abbandonato che purtroppo non ha nessuna colpa a stare tra virgolette in galera un recupero funzionale attraverso logicamente dei percorsi educativi per cui quello che era un rifiuto della società diventava un bene della società perché oramai vengono utilizzati anche per attività complesse tranquillamente anche dei meticci a parte che ultimamente purtroppo vanno a finire in canile anche cani di razza e questo parco canile oltretutto so che già è allo studio e già da tempo il sindaco Carlo Masci mi aveva chiesto dei consigli e io gli avevo girato appunto questo mio progetto fatto sulla scorta non è che faccio l'architetto l'ingegnere ma sulla scorta di quanto ho studiato e di quanto avevo visto già realizzato in città come Milano Genova e quant'altro l'area pare sia stata individuata e sono già avanti diciamo le trattative anche per quanto riguarda quei fondi che il comune di Spoltone non è mai riuscito a ottenere e che invece i canili consorziali prevedono già a livello nazionale ma poi se fai qualcosa di più ottiene anche di più innovativo a livello di fondi europei ottiene anche altri fondi Daniele è un argomento che abbiamo toccato e l'ambito ma è anche una domanda che di fatto io prendo sulla scorta delle richieste che sono state dai cittadini noi in queste settimane di campagna elettorale siamo andati sul territorio a sentire anche quali fossero le richieste dei cittadini al prossimo candidato sindaco e una delle tematiche principali che ci veniva sollevata era la mancanza di aree verdi di parchi subito disponibili a spoltore per bambini e non solo o perché quelli attuali non fossero adeguati o perché non ce ne fossero sul territorio comunale quindi al candidato della Torre chiedo quali sono i vostri progetti se l'apertura di nuove aree verdi e diciamo ricavare nuovi spazi di questo tipo è una priorità del vostro programma elettorale e poi concretamente come fare nel caso in cui questo sia un punto importante diciamo del proprio programma da sindaco allora in quanto medico veterinario potete già capire quanto sono attento ai problemi dell'ambiente ai problemi del cittadino e degli animali perché sono bisogna viverli insieme e crescere insieme sempre tornando alla famosa area ciclopedonabile noi abbiamo tutta la zona del lungofiume che è praticamente abbandonata potrebbe diventare un grandissimo percorso verde dove studiare anche delle aree cani degne di questo nome perché quelle che hanno ultimamente inaugurato veramente fanno ridere perché hanno un'estinzione ristretta e non sono nemmeno abbastanza attrezzate ma Spoltore come territorio ne ha Iosa per studiare parchi peraltro abbiamo uno pseudoparco al convento che è stato sempre chiuso o quasi sempre chiuso abbiamo Montino perché è una collina naturale dove per esempio si poteva strutturare un'area cani il problema è che non c'è stata mai tutta questa volontà di pensare al verde al parco da parte delle passate amministrazioni per me sarà una priorità e secondo me anche facilmente realizzabile della torre Spoltore e le tante contrade che ci sono a Spoltore dove mi risulta in alcune manca la luce e anche le fogne anche questa è una priorità? Assolutamente sì vi svelo un piccolo un piccolo aneddoto ho trovato tra i candidati consiglieri nella mia lista un architetto in pensione molto ma molto preparato tanto è vero che quando mi ha incominciato a mandare la sua documentazione avevo detto ma tu devi fare il candidato al sindaco che c'hai tempo e sei preparato e hai tante argomentazioni e mi ha mandato tante idee tante iniziative e tutto questo scaturiva dalla mente di un cittadino che a sua diciamo testimonianza veniva dall'area di centro-sinistra ma era stato sempre inascoltato nonostante pec raccolte di firma proprio su argomenti tipo le fogne che in molte zone sono carenti la luce no? le illuminazioni stradali delle strade comunali adesso le stanno facendo sembrare come un grosso risultato però hanno avuto dieci anni per farlo guarda caso in alcune strade stanno piazzando i pali della luce proprio adesso Daniele altre problematiche altre abbiamo ancora quattro minuti insomma io quello che su cui volevo insistere si riallaccia un po' alla prima domanda che ho fatto alla nuova Pescara ma più che altro per guardare spoltore in un contesto metropolitano che inevitabilmente c'è esiste e va valorizzato città come Pescara Francavilla Montesilvano sono ripartite insomma con turismo si prospetta un'estate importante e quindi chiedo al candidato della Torre quali sono le sue idee per rilanciare il turismo a spoltore per incentivare l'arrivo in questo comune che ha tanto da offrire e soprattutto in un periodo in cui ci stiamo mettendo alle spalle l'emergenza Covid ed è fondamentale avere risorse anche da fuori allora vi dico subito che secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è aumentare le iniziative gli eventi su spoltore e sull'intero territorio io l'ho pubblicato sul mio programma una manifestazione che si chiama 20 eventi dove appunto il numero degli eventi saranno 20 il gioco di parole serve ad attirare l'attenzione del turista o dell'utente e attraverso questi portare più turisti possibili ultimamente il centro storico di spoltore è abbandonato se uno va in qualsiasi giorno in qualsiasi mese trova dalle 17 18 19 in poi dipende poi dalla stagione il mortorio totale si riaccende un piccolo lumicino per il famoso spoltore ensemble che anche questo è stato semidistrutto rispetto ai fasti di 20 anni fa o anche 30 anni fa sicuramente c'è una contrazione per quanto riguarda la crisi quindi trovare degli sponsor è sempre più difficile però se si fa una programmazione degna di questo nome una volta c'era l'ente manifestazione di spoltore ensemble che incominciava a lavorare da luglio ma da luglio per l'anno dopo invece adesso si inizia a lavorare a luglio per agosto Nellatore siccome volevo far fare un'ultima domanda a Daniele le faccio una domanda risposta brevissima l'incognita astensionismo che non vale solo per spoltore ma per tutta Italia con l'abbinamento dei 5 referendum secondo lei agevolerà l'afflusso oppure no? Allora domanda breve così un'ultima domanda la faccio fare vorrei parlare velocemente per me il problema più grosso è che sulle televisioni si sta parlando pochissimo il referendum sia per il sì che per il no il cittadino per questo forse non è invogliato se fosse invogliato il referendum in automatico poi andrebbe anche a votare per le elezioni amministrative a spoltore perché abbiamo avuto le ultime due tornate elettorali con un 42% di astensionismo che a livello comunale non è grave è gravissimo e il problema più grosso per noi del centro-destra è quello che se la gente non va a votare sicuramente purtroppo sono quelli che magari vorrebbero il cambio che io auspico per far diventare grande il nostro paese Daniele domanda flash domanda flash banale ma non troppo perché ci aiuta anche a capire quali sono le sue priorità se Marco della Torre venisse eletto sindaco qual è la prima cosa che farebbe una volta seduto insomma su quella poltrona allora le cose da fare sicuramente ce ne stanno tante sicuramente come dicevamo prima le cose più facili da realizzare è che in tanti chiedono gli spazi verdi perché ne abbiamo a Iosa attenzione sarebbe anche la cosa più importante da fare per dare un input a quello che poi sarà la fusione nella Grande Pescara cioè noi vogliamo che Spoltore diventi e rimanga il territorio verde della Grande Pescara dove far respirare dell'aria buona allora il tempo a disposizione è finito è volato direi io ringrazio il candidato a sindaco del Comune di Spoltore uno dei quattro Marco della Torre grazie ancora di essere intervenuto grazie a voi grazie agli spettatori che ci hanno seguito Daniele Berardi ringrazio in regia Andrea Di Fabio e qui negli studi alla telecamera Galvino Coppa a risentirci e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti